Umberto Pellizzari, pluricampione. Umberto, questa sera che cosa vorrà insegnare ai giovani? Più che insegnamenti parteremo delle esperienze, per cui sarà Andrea Stella che parlerà della sua esperienza, di come ne è uscito, di quanto da quell'esperienza negativa ha potuto trarre, ha effettuato da quel momento, ci sono stati dei cambiamenti assolutamente necessari nella sua vita e ha scoperto delle situazioni incredibili, per cui io l'ho conosciuto in una conferenza, sono rimasto veramente affascinato dal suo racconto e credo che quando gli amici di My Paura mi hanno chiesto di contattare un ospite, ho pensato subito ad Andrea, prima perché è sempre molto disponibile per questo tipo di eventi e poi perché secondo me ha tante cose da raccontare e soprattutto tanti messaggi positivi da portare ai giovani, la resilienza, il fatto di non mollare mai, il fatto di pensare positivo, il fatto che alla fine spesso se si chiude una porta potrebbe aprirsi un portone se ci lavoriamo, per cui Andrea ne ha la testimonianza e quindi speriamo ci sia qualche cosa di bello da passare ai giovani.